Non è solo una mostra ma un percorso denso di coloratissime emozioni, l'esposizione inaugurata nello studio Art 1307 alle rampe di Sant'Antonio a Posillipo a Napoli. Protagonista Donatella Mazzoleni, già ordinario di progettazione architettonica a Napoli, nonché docente in università non soltanto europee, è progettista di mostre, giardini, architetture del paesaggio, che prosegue nella sua ricerca, che vede la sperimentazione dei rapporti fra i linguaggi dell'architettura, delle arti e della musica. Dalla tabula musicalista napoletana, esposta nel Museo di San Martino nel 2016, torna a proporsi, questa volta con opere che hanno come tratto di ognuna il tema del labirinto. La Mazzoleni dipinge Napoli in modo più intero, ossia con il suo lato oscuro. Ed ecco che nasce il labirinto, chiuso tra i vulcani dei Campi Flegrei e del Vesuvio, con il fuoco profondo e infinito. C'è poi il Minotauro, anch'esso intrappolato in un estricabile labirinto, e poi un'ultima creazione, nata qualche mese fa, uno strumento musicale che ricorda tanto un'arpa, ma allo stesso tempo anche una crisalide che nasce. Napoli era una città più complessa, Napoli non è solo la bellezza straordinaria del suo paesaggio, ma Napoli è anche qualcosa, è anche una trappola. Rappresentare questo labirinto complesso che contiene nel suo cuore un essere cosiddetto mostruoso, poi in realtà mi sono resa conto che il personaggio più interessante, più importante, più ispiratore di tutto il mito è proprio lui. In questo caso invece il labirinto prolifera un po' in tutte le direzioni, come se mettesse delle ali, produce dei fili, delle ragnatele. La curatrice dell'esposizione Cinzia Penna, ai nostri microfoni, sottolinea come il fascino mitico e millenario del labirinto trovi una somiglianza con la struttura del cervello umano. Il cervello umano nella formazione del pensiero segue uno stesso percorso dell'essere umano che affronta un labirinto.